Le questure di Forlì e di Pesero Urbino al termine di un'operazione congiunta hanno pubblicato sulle rispettive pagine Facebook le foto delle bici rubate, elettriche e non rivenute nei giorni scorsi. L'operazione aveva riguardato diversi furti compiuti all'interno di garage condominali. I poliziotti avevano perquisito alcuni immobili situati a Fano, Gradare e Forlì nella disponibilità di un trentenne pregiudicato di origini albanesi che spacciandosi per un inesistente medico dell'ospedale Bufalini metteva in vendita sulla rete biciclette che alcune persone avevano riconosciuto come proprie. L'uomo è indagato per il reato di ricettazione. L'attività inoltre aveva permesso il ritrovamento di una trentina di biciclette, due monopattini elettrici e un casco griffato Valentino Rossi. Le immagini del materiale in sequestro sono pubblicate per agevolarne il riconoscimento e la restituzione agli eventi diritto. Se qualcuno le riconosce può contattare gli uffici della squadra mobile di Forlì o inviare una mail a squadramobilequesturadipesarocchiocciolagmail.com indicando un recapito telefonico, il riferimento di contatto e una breve descrizione dell'oggetto e delle circostanze del furto, cioè dove e quando è stata sporta denuncia.